Ciao, sono Maria Sole e oggi qui con me c'è Antonella. Ciao Maria Sole. Da bambina cosa sognavi di fare? Da bambina sognavo di occuparmi di computer, di lavorare con i computer. E adesso che lavoro fai? Lavoro con i computer. Cosa vuol dire fare questo lavoro? Cosa vuol dire? Vuol dire far fare a delle macchine delle cose che fanno gli uomini. Sei felice di fare questo lavoro? Moltissimo. Un consiglio per una bambina che vuole fare il tuo lavoro? Quello di studiare tanto la matematica. Grazie. Grazie a te. Grazie a te.